Le vostre ricerche mostrano la presenza di una complessa struttura urbana di età romana sul bordo della Laguna di Venezia. Ci puoi dire più precisamente cosa avete scoperto? Teatri, l'anfiteatro e altri oggetti di questo genere, di questa importanza. Inoltre abbiamo riconosciuto la presenza delle mura con delle porte di ingresso alla città e anche un canale che attraversava la città, il centro della città e la poneva in connessione con la Laguna e con i fiumi della terraferma. Cosa siete riusciti a vedere nelle immagini del luglio 2007? Cosa arriveranno? Queste immagini, quello che vediamo in queste immagini, che sono immagini digitali prese da aereo, immagini che sono sia nell'infrarosso vicino, nell'infrarosso fotografico, sia nelle bande del visibile, e quello che ci mostrano è il differenziale grado di maturazione e di crescita delle colture. In questo caso erano principalmente soia e mais. Questo grado di stress della vegetazione è legato alla carenza idrica, non aveva piovuto per alcuni giorni, in generale era stato un luglio piuttosto asciutto. Quindi questa crescita differenziale, questo stato di rigoglio vegetazionale, ci indicano la presenza delle strutture nell'immediato sottosuolo, sostanzialmente subito al di sotto dell'orizzonte agraria. Quali sono le implicazioni pratiche del vostro lavoro? Con la nostra ricerca sappiamo ora come era fatta la città, era una città molto ampia, copriva circa un chilometro quadrato, quindi adesso è possibile cominciare a fare dei ragionamenti su quella che era la struttura, non solo partendo dalla struttura della città, fare dei ragionamenti sulla struttura della società, dell'economia, di come la città in qualche modo viveva. E' importante appunto mettere in evidenza queste strutture, questi canali che la ponevano in connessione con la laguna, abbiamo detto, importante perché abbiamo anche trovato molto probabilmente dove era il porto in quel periodo. E quindi questo è sicuramente, abbiamo finito una fase, ma ne stiamo cominciando un'altra. Un'altra cosa importante è la possibilità di fare delle indagini geofisiche, eventualmente con la soprintendenza archeologica per i beni archeologici del Veneto, e ragionare anche sulla possibilità di fare dei saggi di scavo, e qualcosa stiamo già facendo con un lavoro appunto con la soprintendenza e con la regione Veneto, proprio per mettere i piedi per terra e andare a vedere cosa è rimasto nel sottosuolo. Grazie, dottor Mosi. Prego. Grazie. 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 Grazie.